Il progetto Life Fabi Coste è un progetto che si è svolto tra il 2006 e il 2008 e ha interessato sia come capofila che come sito di applicazione il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, gestita dal Consorzio di Gestione di Torre Guaceto. Ha visto questo progetto una serie di partner che sono l'Università del Salento, il Comune di Carrovigno, il Comune di Brindisi, la Regione Puglia, l'azienda Codra Mediterranea, la società Codra Mediterranea e la provincia di Brindisi. Il budget complessivo è stato quello di 730 mila euro e l'obiettivo principale del progetto è la salvaguardia degli habitat presenti all'interno del SIC di Torre Guaceto perché Torre Guaceto, oltre che a essere riserva statale, include anche un sito di importanza comunitaria che poi ha fatto sì che il presupposto, cioè il requisito per la partecipazione al bando Life e quindi include anche un SIC e una ZPS. E quindi la salvaguardia degli habitat presenti nel SIC di Torre Guaceto con la contestuale riduzione delle minacce che insidiano tale ambito di eccezionale valore naturalistico. Allora, non so quanti di voi conoscono Torre Guaceto, più o meno, forse siamo in tanti. Allora, vado rapidamente all'individuazione di quelli che sono gli oggetti della conservazione, cioè gli habitat di interesse comunitario e l'individuazione delle criticità e l'individuazione da parte del progetto delle criticità legate alla conservazione di questi habitat. Innanzitutto quanti habitat? All'interno del SIC di Torre Guaceto sono presenti diversi habitat di interesse comunitario che sono quelli riportati qui in elenco, sono 16, 18, 18 se non sbaglio, alcuni dei quali sono degli habitat prioritari. Tra gli habitat prioritari abbiamo le duna Ginepro, che abbiamo anche visto nelle slide precedenti, abbiamo gli stagni temporanei mediterranei, l'habitat dei Pascoli, che è il 6220, che ha la seguente denominazione, percorsi substeppici di graminacee, piante annue di etero, brachipodetea, cioè è un habitat sostanzialmente costituito da vegetazioni erbacee annuali, ma prevalentemente vegetazioni erbacee perenni, e la cui conservazione dipende strettamente dalle pratiche antropiche legate all'incendio e legate all'attività di pascolamento vero e proprio. Quindi non sono degli habitat naturali nel vero senso del termine, ma sono degli habitat seminaturali, perché se vogliamo possiamo fare una distinzione tra habitat naturali e habitat seminaturali. Gli habitat naturali sono quegli habitat la cui struttura e le cui funzioni non dipendono dalla presenza dell'uomo. Gli habitat seminaturali sono quegli habitat con una forte componente spontanea, una forte componente spontanea ma in qualche maniera controllati dall'attività dell'uomo. E poi abbiamo gli habitat che possiamo classificare come antropizzati, che sono ovviamente fabbricati, infrastrutture, opere, diciamo, manufatti di natura antropica, e le aree agricole, anche se nelle aree agricole, ma anche nelle aree fortemente antropizzate, sui mari fatti antropici. E comunque si può leggere una certa naturalità, una certa spontaneità del fenomeno ecologico. Specie infestanti, uccelli che raccolgono semi, quindi utilizzano i campi arati con l'obiettivo di alimentarsi, oppure, vabbè, ma comunque sto dilagando. No, la questione invece su cui mi voglio soffermare è questa, che nella direttiva habitat sono inclusi sia habitat strettamente naturali, ma anche habitat seminaturali. Il che ce la dice lunga su quelle che sono le strategie di conservazione di questi habitat. Come nel caso dei pascoli, ci sono altri habitat. Se viene a cessare il disturbo antropico legato al pascolamento e legato alla pratica tradizionale degli incendi, allora la cessazione di questo disturbo antropico può essere individuata come un rischio di conservazione dell'habitat, perché nel momento in cui cessa questo disturbo, allora le comunità erbace vengono colonizzate da vegetazioni arbustive, da specie arbustive, e quindi la vegetazione cambia completamente struttura, cambia fisionomia, cambia composizione in specie, e di fatto l'habitat si trasforma, diventa qualcos'altro. Ma ritorneremo in seguito su questi aspetti. Altri habitat prioritari, quindi, sono i cladieti, c'è un tipo di vegetazione legata alla zona umida e le lagune costiere. Allora, adesso vediamo, vediamo un pochettino di immagini e rilassiamoci, diciamo, un pochettino, vediamo concretamente certe cose. Allora, in questa immagine quello che appare è un litorale roccioso, diciamo, come ce ne sono tanti dalle nostre parti, nel Mediterraneo e ovunque nel mondo, l'habitat roccioso, diciamo, la costa rocciosa, individua un habitat della direttiva habitat, quindi un habitat di interesse comunitario, il cui nome è scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con l'Imonium endemici. L'Imonium endemici perché il limonium, che è una specie erbacea perenne, che cresce sulle scogliere, ci sono tante specie diverse, molte delle quali sono appunto endemiche. Nella zona di Torre Guaceto appare e compare l'Imonium apulum, che come dice il nome stesso, il limonium apulum, il limonio della Puglia, il limonio pugliese. In effetti è una specie endemica della costa pugliese, adriatica, che va da Bari, grossomodo, sino a Brindisi o poco più giù. E quindi la presenza di questa specie e anche, diciamo, delle altre specie che noi riscontriamo e riscontriamo sul posto grazie ai manuali di interpellazione degli habitat che abbiamo visto prima, ci consente di individuare questo habitat lì sul posto. Ecco, allora, questa è la torre, diciamo, di Guaceto, la torre che dà il nome a tutta la riserva, che è localizzata su un promontorio. Ecco, una parte della vegetazione molto piccola, per dire il vero, della vegetazione che si ritrova su questo promontorio è occupata dall'habitat 6220, quell'habitat erbacio, strettamente legato, diciamo, alla pratica del pascolamento. Rimanendo sul litorale, quindi ritroviamo la sequenza di habitat, come quelli che abbiamo visto in precedenza, che vanno dalle linee di deposito marine, che è l'habitat, diciamo, più vicino alla linea di costa e che è interessato dai depositi, come dice il nome stesso, da depositi organici provenienti dal mare, in massima parte ha corpi e resti di alghe e di posidonia oceanica, che è una pianta che cresce, probabilmente lo sapete, nei fondali, diciamo, dei nostri mari, di molti dei nostri mari. Ecco, quindi, l'accumulo di questi resti organici ovviamente arricchisce dal punto di vista di nutrienti il substrato sabbioso e rende un habitat, quindi rende questo ambiente, un habitat del tutto particolare, in cui crescono specie del tutto particolari, quindi strettamente nitrofile, quindi che necessitano di elevate concentrazioni di nutrienti e anche psammofile, cioè che hanno bisogno di substrato molto sciolto, sabbioso. Ecco, e questa però, come abbiamo visto in precedenza, è soltanto uno degli habitat che possiamo leggere, interpretare in questa fotografia. Sulla, diciamo, nella parte più interna abbiamo un altro habitat che è quello delle dune embrionali in cui compaiono e lo caratterizzano fortemente quest'habitat. Compaiono alcune specie perenni, graminacee, come l'agropilone iunceum, lo sporobus pungens, che sono strettamente legate, diciamo, ad una condizione di substrato, substrato soggetto a forte movimento, diciamo, instabile. Per questo il nome di dune mobili, dune che tendono, che sono molto, appunto, come dice noi stesso, sono dinamiche, fortemente dinamiche, e a cui queste specie sono strettamente legate, queste come altre. E poi, diciamo, sulla sommità ritroviamo, quindi, su substrato sabbioso, sì, ma fortemente, ma relativamente piuttosto stabile, ritroviamo la macchia mediterranea, solo che questa macchia mediterranea si arricchisce di alcune specie che sono proprio simbolo, fortemente indicatrici di condizioni ambientali particolari, appunto, questo ambiente sabbioso, che sono, queste specie, sono i ginepri. In particolare, sono due ginepri, diciamo, che si ritrovano sulle coste, lungo le coste del Mediterraneo, ma anche dell'Atlantico, sono il ginepro che si ritrovano qui a Torreguaceto, sono il ginepro coccolone, iuniperus oxycedrus, sub specie macrocarpa, e il ginepro feniceo, iuniperus fenicea. Quindi, delle macchie particolari in cui compaiono specie habitat specifiche, habitat specifiche, che individuano un tipo di habitat della direttiva, che è l'habitat prioritario delle verticaie a ginepri, verticaie costiere a ginepri. Beh, allora, volendo individuare delle criticità legate alla conservazione di questo habitat, che poi hanno ispirato, diciamo, hanno ispirato il progetto Abicos, di cui andiamo a parlare, allora, ne individuiamo una, che è quella legata appunto alla conservazione di questi habitat, minacciata da che cosa? Minacciata dall'eccessivo calpestivo, minacciato da una frequentazione, stiamo parlando, diciamo, nel periodo precedente, l'anno 2006, quindi prima dell'intervento life, oggi ovviamente le cose sono molto diverse, quindi dall'eccessivo calpestio, dal transito di autoveicoli, quindi, questo, dal transito di autoveicoli, quindi, che rappresentavano delle criticità, delle criticità per l'habitat, per questi habitat, a cui in realtà dobbiamo aggiungerne anche un altro, che è quello delle dune bianche, anche questo è un altro habitat, sempre incastonato, diciamo, in questa serie di habitat distribuiti sul gradiente, diciamo, questo stretto, dal punto di vista spaziale, gradiente, diciamo, della costa, e questo habitat è quello delle dune bianche, caratterizzato da un'altra graminacea, che è l'ammofila arenaria, che è questa riportata in figura, e questa è un'immagine che illustra l'habitat delle perticaie costere a ginepri, habitat prioritario, ecco, questi sono i ginepri, di cui si parlava, in particolare il ginepro, il ginepro coccolone. Quando il diciamo, il disturbo sulla duna non è eccessivo, ma c'è, allora la vegetazione, la macchia mediterranea a ginepri, a ginepri tende a ridursi e ad essere sostituita da un altro tipo di vegetazione che diciamo è sempre di tipo arbustivo, ma relativamente costituita da specie relativamente basse, che è questo qua riportato in figura. Sono delle garighe, delle garighe psammofile in cui dominano alcune specie tipo il timo arbustivo ed altre. E anche questo tipo di vegetazione individua un habitat della direttiva habitat. e quando il disturbo è presente ma non eccessivo la vegetazione a ginepri la vegetazione delle garighe a tipo capitato possono ulteriormente essere sostituite da una vegetazione di tipo erbaceo. Una vegetazione di tipo erbaceo in cui compaiono ancora una volta specie fortemente psammofile quindi habitat specialistiche specialiste come per esempio la piantaggine biancastra il convolvulus lineatus e tante altre anche questo tipo di vegetazione individua un habitat particolare della direttiva quindi un habitat di interesse comunitario quindi come vediamo in realtà sulle dune di Torre Guaceto quindi sono presenti tanti habitat che si distribuiscono lungo il gradiente estrettamente costiero ma anche nell'entroterra questi habitat costituiscono un mosaico e il mosaico è determinato sostanzialmente dalla distribuzione del disturbo antropico diciamo che storicamente e anche nei tempi pre-life non molto precedenti all'life diciamo era presente e quindi criticità erosione fortemente costiera non dovuta soltanto all'effetto del calpestio quindi di una frequentazione diciamo una frequentazione non regolamentata da parte dei balneanti ma anche diciamo un'erosione se vogliamo naturale dovuta al motondoso diciamo che tende a far arretrare il fronte della duna rivolta al mare e questa è un'altra criticità diciamo l'effetto di decenni di quello che stiamo di quegli aspetti di quei disturbi di cui stiamo parlando a cui se ne associano altri diciamo lottizzazioni o tentativi di lottizzazioni avvenute intorno agli anni 60 qui attraverso questa foto aerea possiamo leggere diciamo il perimetro di quello che secondo le intenzioni doveva essere secondo le intenzioni doveva essere un un campeggio un'area un'area campeggio poi fortunatamente non è andato un progetto che non andò in porto quindi possiamo leggere diciamo gli effetti di tutte queste diciamo perturbazioni che si sono perpetrate nel sistema di dune di torre Guaceto per decenni quindi un reticolo disorganizzato di sentieri una parte diciamo del litorale esposta è ancora attualmente così agli effetti erosivi dovuti al motondoso e una parte come questa questa qui diciamo interessata in un certo periodo storico grossomodo intorno agli anni 40 e gli anni 50 a destrazione a cava diciamo di sabbia infatti attualmente diciamo si vede chiaramente diciamo la linea netta non naturale di questo intervento che è stato fatto in quei periodi insomma un ambiente fortemente maltrattato per decenni e a un certo punto nel 2006 giunge in life e individua questi habitat individua che per la verità erano stati già individuati in precedenza però voglio dire fa proprie le conoscenze legate a questi habitat individua quelle che sono le criticità principali e quindi propone una modalità propone delle attività delle azioni per mitigare i danni che sono stati fatti diciamo in questo nell'ultimo periodo storico ecco qui vediamo come la frequentazione da parte da parte dei balneanti ma anche diciamo di persone che andavano in giro scorrazzando con le moto determinavano diciamo profondi effetti diciamo di erosione sul sistema sul sistema dunale e questa è l'erosione che mette al nudo quelle che sono sono i gigli della sabbia insomma tutta espone l'apparato radicale di molte specie che inesorabilmente insomma muoiono e la loro caduta incentiva ulteriormente diciamo questo processo processo di erosione qui abbiamo diciamo un meccanismo che ha una dinamica con un forte feedback positivo nel momento in cui si innesca diciamo il processo tende ad accelerare diciamo adesso ad accelerare un po' di fila comunque nel momento in cui si innesca tende a procedere spontaneamente dopo l'innesco anche quando il disturbo antropico viene a cessare va bene insomma questo marca un po' il discorso che abbiamo detto fino a questo momento e questo invece è come appare qua stiamo sempre nella zona di Torre Guaceto in particolare nella parte ritorale che è legata alla zona della riserva marina perché questa cosa non l'ho detta Torre Guaceto in realtà oltre adesso una riserva terrestre è anche una riserva marina o meglio dal punto di vista dell'istituzione esiste una riserva marina e una riserva terrestre tutte e due poi sono gestite allo stesso consorzio tra l'altro questo è un caso anche abbastanza unico in Italia ecco quindi quello che troviamo qui raffigurato in questa fotografia è una parte del litorale che si interfaccia sabbioso che si interfaccia con la zona A quindi interdetta alla balneazione e questo è diciamo il risultato dell'accumulo di Poseidonia di Poseidonia Oceanica e resti organici provenienti dal mare che viene spiaggiato dal movimento delle acque e lascia intendere come siamo poco abituati probabilmente siamo poco abituati a vedere i litorali di questo tipo perché ormai diciamo la consuetudine non è questa diciamo la regola non è questa ma la regola è quella di avere di vedere delle spiagge che sono utilizzate i scopi della balneazione che quindi vengono regolarmente pulite comunque questo è l'habitat nella sua interezza è l'habitat delle linee di deposito marine come si dovrebbe presentare in una situazione diciamo una situazione ben conservata ecco questo è sempre lo stesso abitat questi sono gli accumuli di posizione oceanica ecco la torre sullo sfondo questa è un'altra diapositiva che insiste sul fatto che su alcuni tratti del litorale l'erosione provocata dal motondoso può essere molto intensa questo è un tratto di costa della riserva piuttosto particolare qui diciamo abbiamo non abbiamo un litorale di tipo roccioso non abbiamo un litorale di tipo sabbioso ma abbiamo delle falesie delle falesie costiere che sono rappresentate dai depositi di materiale di materiale di tipo terroso ecco di materiale di tipo terroso che per loro natura tendono ad essere facilmente erodibili in questo ambiente compare un habitat anche questo un habitat di interesse comunitario ecco e poi ci spostiamo nella zona umida lasciamo diciamo questa questa ricognizione degli habitat costieri e ci addentriamo nella zona umida dove troviamo l'habitat dei giunchieti le lagune costiere che sono rappresentate da specchi d'acqua che possono avere sia un carattere temporaneo che un carattere perenne comunque in qualche maniera collegate col mare e comunque sempre con una salinità molto elevata che può variare nell'arco dell'anno ma normalmente sempre molto elevata e in determinati periodi dell'anno può addirittura raggiungere la salinità valori superiori rispetto a quelli marini ecco allora mettiamo in evidenza alcune criticità di questo di questo ambiente legato soprattutto alla alla vicinanza diciamo alla vicinanza rispetto all'area agricole quindi le aree agricole che tendono ad erodere la zona umida ad entrare all'interno della zona umida oltre che a quello di rilasciare magari sostanze che possono arricchire il carico trofico delle acque attraverso la concimazione l'utilizzo di fertilizzanti e quindi ci troviamo sempre nell'interfaccia area agricola zona umida e questo sicuramente le aree agricole in questa l'attività agricola in questa interfaccia rappresenta certamente una criticità per quanto riguarda la conservazione di questi habitat l'habitat più esteso nella zona umida della riserva è il canneto il canneto a cannuccia di palude fragmites australis che però non è un habitat di interesse comunitario e gli habitat di interesse comunitario sono altri ne abbiamo visti alcuni sono i giunchieti ma ci sono anche gli stani temporanei mediterranei c'è il cladieto ed altri e oltre alla zona umida andando nell'entroterra un pochettino nell'entroterra ritroviamo il bosco il bosco originario il bosco originario che è costituito prevalentemente da da querce in particolare dal leccio le leccete rappresentano un habitat di interesse comunitario che è presente nella zona di Torreguaceto ed ha un'estensione approssimativa di 10 ettari la lecceta così come tanti altri boschi dalle nostre parti hanno rappresentato per un lunghissimo periodo storico una risorsa una risorsa per quanto riguarda l'approvvigionamento di legname ma soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento di legname e quindi le leccete fino a un certo periodo e i boschi originali fino a un certo periodo erano conservati dagli stessi abitanti in quanto risorse risorse ed in effetti erano in qualche maniera gestiti ok dagli anni 40 intorno agli anni 40 anni 50 a un certo punto si è persa diciamo l'utilità di gestire questi boschi originari e quindi questi boschi originari hanno perduto il loro valore intrinseco il loro storico valore intrinseco tant'è vero che molti dei disboscamenti che sono avvenuti nel Salento in Puglia e in altre regioni del Mediterraneo sono accaduti esattamente nel periodo nella prima diciamo nei primi decenni del Novecento quando sono state introdotte nuove forme di distribuzione dell'energia nuove forme di energia le persone non avevano più gli abitanti non avevano più necessità di allevare i loro boschi di gestire i loro boschi e quindi a un certo punto sono stati disboscati che si sono persi bene a Torreguacete è conservata una di queste di queste antiche di queste antiche leccete che presentava presente in parte ancora oggi ma il life ovviamente ha risolto alcuni dei problemi che erano presenti presentava diciamo una un degrado legato un degrado legato alla alla mancanza di gestione quello che era quello che era rimasto era un bosco sostanzialmente ceduato quindi che veniva tagliato però invecchiato cioè non era più non veniva più gestito la mancanza di ceduazione la mancanza di gestione quindi l'abbandono di fatto del bosco rappresentano diciamo una forma di degrado una forma di degrado perché alla fine le piante risultano che anticamente ceduate non più ceduate risultano essere sofferenti perché molti polloni molti diciamo perché rappresentati da tanti fusti inseriti nello stesso apparato radicale e quindi in qualche maniera necessitava di interventi il bosco di lecce necessitava di interventi per rimettere in sesto le piante sofferenti certo si perché sono sottoposti vuol dire qual è lo stress accusato le piante le stress sono sottoposte le piante determinato dal fatto che ci sono tanti fusti inseriti nello stesso apparato radicale la pianta in questa maniera soffre e tende diciamo a non svilupparsi secondo in altezza diciamo ha un approccio molto arbustivo e poco diciamo poco arboreo ecco e quindi gli interventi avevano l'obiettivo di convertire diciamo di favorire l'evoluzione verso un bosco alto verso una cosiddetta fustaglia quindi stiamo vedendo giusto per ricapitolare la logica diciamo di questa sequenza di diapositive stiamo vedendo quelli che sono stati per il life abicost gli oggetti del progetto cioè gli habitat che stiamo passando in rassegna le criticità e quindi le criticità legate agli habitat e quindi quali quali sono stati gli obiettivi del del progetto andiamo avanti questo è un caso di macchia di macchia mediterranea la macchia mediterranea non è prego no sempre per quanto riguarda la lecce dato che era stato anche un caso un nostro caso studio prima nei laboratori precedenti lì c'è stata abbiamo detto una sostituzione diciamo della parte del ceduo con la fustaglia quindi gli alberi più alberi giovani sostanzialmente credo cosa intende no 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 non c'è stata una sostituzione ci sono stati degli interventi di tipo di tipo forestale che hanno mirato diciamo a tagliare i polloni in eccesso quindi a lasciare uno due fusti per ciascun per ciascun apparato radicale ecco intervento è solo questo non c'è stata una sostituzione non c'è stata una ripiantumazione di altre aree un allargamento della lecce assolutamente sì adesso ci arriviamo ah ok sì 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 quindi la macchia mediterranea non è un habitat di direttiva habitat diciamo nella sua formazione tipica poi in realtà ci sono tanti aspetti della macchia mediterranea che invece rientrano nelle categorie della direttiva e queste sono le garighe a Santoreggia Pugliese Santoreggia Cuneifolia che sono presenti diciamo sono presenti a Torreguaceto hanno una copertura molto bassa in realtà e in qualche maniera sono annesse all'attività del pascolamento cioè rappresentano un po' la fase di evoluzione dell'habitat 6220 nel momento in cui cioè l'habitat del pascolo erbaceo nel momento in cui viene accessare l'attività di pascolamento questo non è un habitat di direttiva prego allora riguardo al pascolo all'habitat pascolo ma voi a Torreguaceto per far sì che non si trasformi in altro operate degli incendi selettivi ogni tot di anni oppure non so allora diciamo sino a questo momento allora sino a questo momento è stato molto difficile la gestione legata al pascolamento diciamo che ancora oggi non possiamo ritenerla del tutta risolta tanto è vero che la presenza di allevatori nella zona che un tempo c'era oggi praticamente si è ridotto a niente non ci sono più allevatori nella zona possiamo arrivare a questa conclusione e stiamo tentando diciamo stiamo tentando attraverso alcuni progetti ma stiamo parlando di qualcosa di diverso rispetto al live questo live qui stiamo tentando attraverso alcuni progetti di reintrodurre diciamo la gestione attraverso il pascolamento il fuoco tu hai citato il fuoco il fuoco prescritto certamente il fuoco prescritto noi dobbiamo vedere il pascolamento non come un'attività distruttiva ormai penso che sia chiaro dalla discussione che stiamo facendo è un'attività che l'uomo porta avanti da millenni e l'uomo e questi habitat sono coevoluti insieme all'uomo e al pascolamento è anche legato ovviamente quello degli incendi come pratica sussidiaria gli incendi purtroppo gli incendi oggi sono visti con occhi fortemente negativi l'incendio è visto come un elemento di distruzione per l'ambiente naturale e sicuramente è così in moltissimi casi anzi sicuramente è così in tutti i casi in cui viene utilizzato senza coniezione di causa però l'incendio poiché è un fattore naturale poiché è un elemento che ha determinato gli aspetti coevolutivi tra uomo e habitat mediterranei l'incendio è anche un elemento di gestione è un elemento di gestione il problema è utilizzarlo con coniezione di causa utilizzando con competenza e in effetti esistono delle tecniche gestionali che si chiamano tecniche del fuoco prescritto tecniche del fuoco prescritto che sono in molte parti del mondo soprattutto diciamo per far scuola su questi argomenti sono stati gli americani gli australiani ma anche in Italia con Francia ad esempio che hanno utilizzato con elevato profitto il fuoco prescritto cioè il fuoco controllato ai fini gestionali in Italia purtroppo non è così ci sono alcuni istituti di ricerca che sono validissimi ovviamente però sono inseriti in un contesto amministrativo politico che guarda di balocchio l'utilizzo del fuoco dal punto di vista gestionale e noi a Taro di Guoceto abbiamo in collaborazione con l'Università di Torino e con alcuni ricercatori dell'Università di Torino abbiamo cercato di portare avanti dei progetti di ricerca e abbiamo fatto un tentativo di introduzione del fuoco prescritto come tecnica gestionale però purtroppo c'è stato diciamo l'iniziativa è stata completamente bocciata credo di averti risposta allora ecco questo è il caso dell'habitat 6220 l'habitat del pascolo così come si presenta oggi a Torre Guoceto il pascolo del pascolo del pascolo del pascolo erbacio habitat prioritario detto anche pseudosteppo substeppe criticità criticità l'abbandono del pascolo e questa è sicuramente una criticità e anche diciamo l'inattenzione verso zone che ormai sono diventate di secondaria importanza poiché non più utili sostanzialmente da nessun punto di vista per l'uomo se non come discariche per buttarci dentro le porcherie dal punto di vista delle specie io vi presento soltanto l'aspetto legato l'aspetto legato all'aspetto floristico della riserva diciamo non ho competenze specifiche per quanto riguarda l'aspetto faunistico però vi dico che Torre Guaceto è una zona Ramsar quindi una zona internazionale è stata proprio inizialmente negli anni 70 individuata come area internazionale di importanza per il flusso diciamo migratorio di specie a livello internazionale quindi vi posso soltanto lasciare immaginare quella che è la ricchezza dal punto di vista della biodiversità faunistica vi descrivo quella che è la biodiversità faunistica attualmente sono state licenzite oltre 600 specie vegetali queste nove sono state individuate sono specie ritenute a rischio di estinzione coerentemente a quelli che sono le liste rosse di cui abbiamo parlato prima e che sono gli elenchi degli allegati della direttiva habitat in particolare soltanto una specie presente ma non ce ne sono molte altre diciamo nella nostra zona soltanto una specie presente è ritenuta specie prioritaria ai sensi della direttiva ed è una specie legata all'habitat dei pascoli arbacei che si chiama stipa austroitalica non ce l'ho da farvela vedere una specie ritenuta estinta localmente estinta che è la crucianella marittima questa riportata in figura è una specie legata ad un habitat del sistema di dune costiere un habitat particolare che prende il nome di dune grigie in cui si inserisce questa crucianella marittima verosimilmente la scomparsa della specie ma anche la scomparsa dell'habitat che oggi non è più leggibile all'interno della riserva è dipeso dalle quelle pratiche diciamo quelle pratiche che si sono quelle pressioni che si sono esercitate diciamo sul sistema del litorale in passato di cui abbiamo visto prima e poi sono state registrate 35 specie esotiche alcune diciamo che non hanno una particolare non dimostrano una naturalizzazione una spontaneizzazione quindi sostanzialmente hanno forte difficoltà a riprodursi spontaneamente però altre invece si riproducono spontaneamente e tendono a competere anche piuttosto fortemente con le specie all'interno delle comunità locali questa è una delle questa è una delle specie di lista rossa il convolvulus lineatus e questa è la mappa di distribuzione del convolvulus all'interno all'interno della riserva il perimetro della riserva non è qui riportato però diciamo esce fuori rispetto a quello che qui rappresenta grossomodo fa questo questo andamento qua poi esce fuori e ritorna più o meno qui e poi chiaramente interessa tutta la costa questa è erica manipuliflora una specie una specie arbustiva diciamo di bassa di bassa statura il nome volgare è erica pugliese non è una specie endemica della Puglia è una una specie diciamo con areali di distribuzione mediterraneo orientale quindi si trova nei Balcani però è detta pugliese perché in Italia il suo areale di distribuzione è strettamente limitato alle coste pugliesi e in particolare Torre Guaceto rappresenta il limite più settentrionale dell'areale di distribuzione diciamo pugliese e quindi italiano della specie è inserita nella lista rossa nazionale nella lista rossa regionale quindi è una delle specie a rischio di distinzione quindi oggetto diciamo del nostro intervento LIFE un'altra specie è Orchis palustris è un'orchidea legata ad habitat alla zona umida questa è la mappatura della distribuzione di questa specie in Italia in verde sono i siti in cui la specie appare confermata invece in rosso i siti in cui la specie non è stata più osservata quindi abbiamo un'areale di distribuzione su scala nazionale che ha una tendenza alla riduzione e quindi se vogliamo utilizzare il criterio di stato di conservazione della specie così come ci viene fornito dalla direttiva habitat possiamo certamente dire che questa è una specie in cattivo stato di conservazione e poi quindi alcune specie esotiche come vi dicevo prima alcune sono invasive questa invasività è indicata in questa tabella da questo acronimo INV altre invece sono casuali quindi non dimostrano non rappresentano una minaccia sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali una specie diciamo invasiva è il mioporum tenifolium che è questo qui che è una specie arborea arbustiva arborea che è il risultato dei processi di piantumazione di diforestazione risalenti al periodo delle bonifiche quindi nei primi decenni del novecento che è in grado dimostra una chiara attitudine a riprodursi spontaneamente e lo fa all'interno di habitat di interesse comunitario della duna e habitat prioritari come ad esempio le perticaie costiere a Ginebri un'altra specie è l'eucalipto che diciamo è una specie grosso modo casuale anche se sono stati registrati casi di di germinazione da seme di propagazione per via sessuata della specie il pino il pino d'aleppo è un'altra di queste di queste specie per dire la verità allora occorre dire che il pino d'aleppo è una specie diciamo mediterranea quindi il salento si trova all'interno dell'areale di distribuzione di questa specie però è una specie che è stata in passato molto utilizzata negli interventi forestali di rimboschimento sia presso la costa che all'interno e che diciamo non ci sono evidenze se non in rarissimi casi non ci sono evidenze che il pino di formazioni spontanee di pino almeno dalle nostre parti nel salento quindi possiamo ritenere diciamo il pino il pino d'aleppo una specie a tutti gli effetti esotica una specie nel salento una specie esotica che però ha un'elevata attitudine a riprodursi per via sessuata e quindi ad ampliare i popolamenti questo è uno studio che per la vita è stato fatto dopo il live però insomma adesso come vedremo tra breve le specie esotiche sono uno degli oggetti del live questo è uno studio che ha dimostrato come rispetto ai punti di impianto originari che alle aree di impianto originari che sono quelle riportate in rosso il pino ha subito diciamo un forte ampliamento un forte ampliamento dal punto di vista diciamo della copertura della copertura e a danno di che cosa? a danno di quello che è l'habitat originario l'habitat preve che è quello delle perticaie costiere a ginepri e la presenza di specie esotiche non soltanto sulla duna ma anche nella zona umida e questa per la verità è una bella pianta però anche questa è una specie esotica che si rinviene in alcuni distretti della zona umida e tende a costituire delle formazioni a formare delle coperture erbose molto compatte e quindi dimostrando in questa maniera una forte competitività rispetto alle comunità e alle specie locali alle specie locali altre specie esotiche andiamo avanti insomma bene allora nel complesso la mappatura di questi abitat all'interno della riserva è riportata diciamo in questa in questa carta non mi soffermo non c'è di Tascalia non c'è niente vuole soltanto diciamo dare l'idea di quella che è il mosaico la complessità spaziale del mosaico di habitat così come si realizza così come è realmente presente all'interno della riserva e quindi nel SIC che è presente nella riserva e che occupa una buona parte diciamo della riserva in particolare quella diciamo prossima al litorale sempre sempre con lo scopo di individuare le cause e quindi di avere una descrizione temporale una descrizione temporale di come sono evoluti di come è evoluto il paesaggio della riserva è stata fatta una ricostruzione storica basata sull'interpretazione di foto aeree e qui gli habitat diciamo sono accorpati in macro categorie concentriamoci soprattutto su quelli che sono su quello che è l'habitat del pascolo che è questo qua in verde chiaro habitat prioritario senza direttiva su quella che è la macchia la vegetazione di macchia veniterranea arbustiva sia ad alto fusto che a basso fusto che si chiama gariga e la zona umida all'interno di questa sono presenti tanti habitat tanti habitat elencati dalla direttiva individuati dalla direttiva bene la scansione temporale dagli anni 40 oggi è esattamente questa negli anni 50 diciamo abbiamo un primo arretramento di questa storica area pascolo è una così come vi anticipavo in precedenza è una scomparsa di un grosso nucleo di lecceta di macchia mediterranea di lecceta che è l'antico bosco l'antica macchia di San Giovanni e ci troviamo quindi a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 in quel periodo storico in cui i boschi diciamo perdono il loro valore intrinseco il loro valore economico l'uomo non ha più l'uomo le persone locali non hanno più necessità di gestire di portare avanti questi habitat e quindi sostanzialmente vengono distrutti vengono distrutti non tanto per abbandono quanto per sostituzione cioè quindi queste superfici vengono utilizzate per l'attività di tipo l'attività agricola come vedete negli anni 60 in pratica l'habitat attualmente l'habitat prioritario l'habitat dei pascoli in questa zona scompare praticamente del tutto restano pochi lembi residui in questa zona anche la macchia mediterranea è arretrata parecchio e la zona umida in qualche maniera negli anni 70 e questo diciamo è lo scenario nel 2002 ed è diciamo il quadro che poi si è presentato nel 2006 nel momento in cui si è andato ad operare con l'intervento LIFE e questo è l'andamento diciamo dal punto di vista della superficie della superficie quindi una caduta ma diciamo è una maniera una caduta della copertura della macchina mediterranea quindi quella boschiva è una maniera alternativa per descrivere quello che abbiamo visto in precedenza attraverso la cartografia le pseudostep cioè l'habitat prioritario 62-20 legate ai pascoli che praticamente scompaiono quasi del tutto nel 2002 e dall'altra parte invece l'aumento dei seminativi e dei vigneti volendo ricorrere ad alcuni indici se vogliamo indicatori l'indice di biodiversità valutato a scala di paesaggio che descrive quella che è la complessità dal punto di vista strutturale del paesaggio quindi del mosaico di habitat della riserva partendo dagli anni 40 a oggi quindi subisce un forte decremento quindi una perdita di biodiversità valutata a scala di paesaggio e una biodiversità anche questo diciamo è l'indice di Shannon-Weiner riportato per diciamo secondo una distanza attraverso un'analisi spaziale secondo una distanza rispetto alla linea di costa abbiamo quindi una biodiversità valutata a scala di paesaggio quasi del tutto concentrata a livello costiero e una bassa biodiversità legata sempre valutata a scala di paesaggio invece legata all'ambiente dell'entroterra le conclusioni ossia le premesse del progetto LIFE si osserva la riduzione della diversità io ho perso quasi del tutto la voce si osserva la riduzione della diversità nel tempo a livello di paesaggio della diversità del tempo sia valutata a livello di specie sia valutata a livello di mosaico di habitat quindi a scala di paesaggio la componente vegetale ha maggiore valenza naturalistica distribuita attualmente lungo la costa la vegetazione igrofile le vegetazioni igrofile sono in maggioranza di origine secondaria questo per la verità nella discussione che abbiamo fatto prima è verso decisamente poco però e poi si registra l'erosione dell'ambiente di Duna così come abbiamo visto e quindi nel progetto LIFE vengono individuate sostanzialmente tre minacce fondamentali che sono 1. il degrado degli habitat per la pressione dell'attività agricola nelle aree con termini il degrado delle formazioni forestali autoctone così come abbiamo visto la compressione il degrado degli habitat adunali per erosione soprattutto di tipo antropico ma abbiamo visto che partecipa anche a componente naturale di erosione da parte del mare comunque l'habitat il progetto si concentra mette a fuoco la criticità legata a quello di tipo antropico l'obiettivo principale del progetto l'abbiamo già letto in precedenza e lo rileggiamo la salvaguarda degli habitat presenti nei SIC di Torre Guaceto e poiché abbiamo a che fare un progetto LIFE Natura 2000 ovviamente quello che pesa sono gli habitat naturali e seminaturali individuati dalla direttiva quindi l'interesse comunitario è prioritario meglio ancora se sono prioritari perché se i progetti LIFE includono habitat prioritari il margine di cofinanziamento dovuto agli enti che partecipano è minore cioè la porzione di cofinanziamento è minore quindi in qualche maniera c'è un vantaggio diciamo dal punto di vista proprio economico nel progetto quindi l'inclusione di habitat prioritari con la necessità di distinguere ai fini della progettazione LIFE gli habitat prioritari dagli habitat di interesse comunitario quindi rileggo scusate allora salvaguardia degli habitat presenti nel SIC di Torre Guaceto perché SIC perché la direttiva habitat si concentra su quelli che sono i siti principalmente su quelli che sono i siti Natura 2000 Torre Guaceto ovviamente ce l'ha all'interno della riserva con la contestuale riduzione delle minacce che insidiano tale ambito di eccezionale valore naturalistico abbiamo visto quali sono gli habitat abbiamo visto quali sono le minacce il progetto LIFE mette a fuoco tre minacce e le attribuisce e le attribuisce alle diverse azioni che andiamo a vedere nello specifico 5 e 20 qualche domanda così nel frattempo prendo un minuto di relax per sottolineare il meraviglioso strumento LIFE prima abbiamo visto quei materassi di resti di posidonia spiaggiata che come ci ha descritto il dottore è un luogo dove avvengono processi ecologici importanti e dove si insedia una vita animale e così via però questa posidonia all'interno dell'area protetta svolge anche un'altra funzione su quella spiaggia ha un'importante funzione anti-erosiva questo lo dico perché perché altrove la posidonia sulle spiagge non protette è considerato un rifiuto per cui il dottore ci ha raccontato che la pratica è quella di prendere questa posidonia e raccoglierla e andarla a smaltire come rifiuto speciale quindi quindi noi vediamo un life natura che ci aiuta a conservare questi materassi di resti di possidonia a torre guaceto altrove invece hanno fatto dei life per trovare una modalità di raccolta di questi resti stoccaggio su altre spiagge protette mantenimento di questi resti per un periodo dell'anno per poi riportarli sulle spiagge alla fine del periodo di frequentazione della balneazione quindi prenderli a giugno stoccarli e riportarli a settembre tutto ciò attraverso un finanziamento life ovviamente diverso dal life natura quindi per dire come questo che è un grande valore diventa un rifiuto da qualche altra parte ma con il life noi riusciamo a ridare valore a questo rifiuto attraverso una serie di passaggi per raccontare del life ok allora quindi io immagino a questo punto che lo schema diciamo previsto dal life per l'organizzazione per l'organizzazione di diversi interventi vi è già chiaro diciamo e di vostra ne avete già acquisito suppongo visto che avete già comunque magari vale la pena ripercorrerlo molto sommariamente abbiamo il life prevede sei tipologie di azioni sei tipologie di interventi la tipologia A che è quella legata alle azioni di preparazione la tipologia B che è quella legata alle azioni di acquisto o di o di affitto di affitto di terreni o di diritti la categoria C che riguarda la gestione non ricorrente cioè gli interventi per cui diciamo non è prevista una reiterazione e contrariamente la categoria D che invece individua quei tipi di azioni invece ricorrenti gestionali periodi di gestione periodica la categoria E che è quella legata alla diffusione dell'informazione in sostanza e la categoria F che è quella legata alle operazioni strettamente legate al progetto cioè di gestione del progetto in maniera interna e di monitoraggio del progetto Allora questa è l'articolazione del progetto ABICOST in cui sono individuate attraverso un diagramma che a questo punto noi possiamo tranquillamente chiamare un piano d'azione attraverso un diagramma non soltanto il piano d'azione ma anche un diagramma temporale in quanto le azioni hanno una loro diciamo sono distribuite su una dimensione temporale ed è un piano d'azione in quanto le azioni sono messe in relazione tra loro ed è il risultato diciamo di quel processo di analisi condotto insomma in qualche maniera attraverso tecniche di problem solving e di modellizzazione concettuale allora le azioni abbiamo l'azione A1 che è l'elaborazione del piano di azione l'elaborazione del piano non che questo non sia un piano d'azione ma c'è l'intervento A1 diciamo predispone predispone una volta avviato il progetto di estendere in maniera più dettagliata in maniera più compiuta le singole azioni del progetto stesso poi azioni di tipo B che è quello legato alla questione di acquisto di terreni però è sfuggita adesso ci arriviamo alla domanda che hai fatto tu dell'acquisizione di terreni adesso ci arriviamo le azioni B legate agli acquisti di terreni in particolare azioni B1 e B2 sono state distinte in quanto ricadono su territori comunali completamente differenti poi le azioni di tipo C quindi di gestione non ricorrente che sono i veri e propri interventi diciamo dal punto di vista della scansione temporale abbiamo le azioni di riqualificazione della vegetazione in particolare l'azione C1 interventi silviculturali a favore di formazione a quercus silex quindi interventi legati alla conversione da cedro invecchiato a fustaia del bosco a Lecci abita di interesse comunitario e la conversione di formazione a Tamarix africana in macchia mediterranea perché in macchia aperta scusate perché Tamarix è una di quelle essenze al pari del Pino d'Aleppo diciamo utilizzate non la faccio lunga cioè in realtà il discorso è un po' più complesso comunque è una di quelle specie esotiche introdotte con gli interventi forestali dei primi del novecento quindi questa azione mira a ridurre la copertura di questi tamariceti di impianto favorendo invece la presenza della macchia mediterranea e quindi sul lungo periodo avendo un obiettivo quello di favorire la costituzione dell'abita delle particalie ginepri delle particalie di ginepro una volta quindi la naturalizzazione di aree agricole questo intervento di naturalizzazione di aree agricole da compiersi sui terreni acquistati attraverso le azioni tipo B hanno l'obiettivo di estendere la copertura dell'habitat del bosco a Lecci la ricostituzione delle dune in alcuni settori del sistema dunale in cui gli habitat appaiono particolarmente degradati un intervento di manutenzione periodica per limitare la presenza di specie esotiche quindi si tratta di interventi che sono stati effettuati tra il 2006 e il 2008 distribuiti soprattutto nei settori della zona umida e nei settori della macchia a ginepri e un'azione F1 che è quello del monitoraggio di tutti gli interventi diciamo a partire dai più precoci diciamo sino ad arrivare agli ultimi queste sono alcune delle azioni del progetto e in queste tabelle quindi vediamo la relazione la relazione tra minacce così come illustrato in precedenza e le azioni del progetto la minaccia 1 che ricordo è il degrado degli habitat per la pressione dell'attività agricola nelle aree con termini è legata all'azione dell'acquisto dei terreni all'azione di naturalizzazione dei terreni acquistati di rimboschimento dei terreni acquistati l'azione C5 e incontro con gli stakeholders cioè diciamo azioni che prevedono il coinvolgimento dei portatori di interesse primi tra tutti i proprietari dei terreni agricoli che hanno dato la loro disponibilità diciamo all'acquisto alla cessione dei terreni prego sì io per esempio che sono interessato a fare questo acquisto di terreni sto scrivendo il progetto nel momento in cui sto elaborando il progetto io come faccio a sapere se effettivamente io quei terreni li acquisto chi è proprietario di quei terreni li vende è interessato a venderli mi devo prima informarmi assolutamente sì prima di scrivere il progetto prima di scrivere il progetto nel momento in cui il progetto viene presentato tu devi aver già acquisito come minimo un documento in cui il proprietario esprime la propria intenzione nella cessione del terreno altrimenti l'azione non viene assolutamente presa in considerazione oh ragazzi ma potrei avere un altro bottiglietto d'acqua grazie sì grazie queste invece sono le azioni direttamente legate alla minaccia 2 che abbiamo definito abbiamo definito come legata alla presenza di specie esotiche e alla loro e alla loro incidenza quindi l'azione C1 che in realtà è composta da sottoazioni quali l'eliminazione delle piantagioni artificiali appino da leppo delle piantagioni di specie autoctone in generale e via discorrendo andiamo avanti la minaccia 3 che invece è quella legata alla conservazione degli habitat del sistema dunale e quindi le azioni sono quella di ricostituire parte del parte del del sistema dunale particolarmente particolarmente disturbato storicamente disturbato grazie della popolazione locale e poi abbiamo altre azioni che invece sono legate indistintamente a tutte e tre le minacce che sono le restanti e abbiamo sia quelle di categoria A che di categoria E che di categoria F per quanto riguarda l'acquisto dei terreni quindi azioni B1 e B2 allora questo è il caso di alcuni terreni diciamo di alcuni terreni diciamo interessati sono terreni adiacenti a quelli che sono i nuclei di lecceta e anche di macchia mediterranea in rosso sono state individuate preventivamente cioè individuate nella fase di progettazione quindi come tale è stato presentato e quindi sono state individuate le aree soggette poi all'azione quindi acquisizione di terreni quindi in pratica alcuni di questi terreni ricadono nell'area di Brindisi altre nel comune di Carovigno ma per tutti questi terreni non è già stato acquisito diciamo l'intenzione della vendita da parte dei proprietari terriere ma poi su questa questione qui dell'acquisizione di proprietà privata se abbiamo tempo ci ritorniamo in seguito perché vorrei puntualizzare una cosa ma adesso non è il caso in questo momento azione C5 riproduzione di piante autoctone per una volta acquistati questi terreni sono stati quindi l'intenzione è quella di piantumare specie di macchia per ampliare la copertura degli abitati di interesse comunitario primo tra tutti primo tra tutti quello delle perticaie a Ginepri a Costiere ma anche di altri e quindi di piantumare di piantumare specie per la costituzione di queste di queste di questi di questi habitat per dire un po' per dare un'idea questa questa queste queste azioni hanno previsto l'individuazione di un ente quindi di una struttura per la riproduzione di piante provenienti da provenienti da materiale locale per evitare una contaminazione di tipo genetico ovviamente per evitare una contaminazione di tipo genetico e poi le azioni hanno previsto le quantità di piantine da utilizzare le modalità anche di introduzione queste sono le specie le singole specie utilizzate in questi interventi di impianto e il numero di piantine le modalità di propagazione sia da seme che da talea e la percentuale di attecchimento prevista una volta messe a dimora queste piantine questa è la individuazione delle aree di intervento per quanto riguarda le azioni di interventi servicolturali di interventi diciamo di diradamento di conversione sulla lecceta e di diradamento dei tamariceti questi in blu quindi puntinato sono le aree soggette all'intervento anzi ai due interventi ecco questa è una pineta diciamo di impianto di quelle di cui si parlava prima quindi il pino d'Aleppo pur essendo una specie mediterranea in realtà queste formazioni appaiono naturalisticamente un po' decisamente poco interessanti manca una copertura arbustiva lo strato erbaceo è ridotto a poche specie che tendono diciamo a dominare tra l'altro molte di queste specie dello strato erbaceo al di sotto delle pinete sono anche di tipo esotico insomma le pinete non sono un gran belvedere e né tanto meno svolgono funzioni importanti dal punto di vista della conservazione della biodiversità e dal punto di vista di altri processi ecosistemici quindi una volta date le giustificazioni del perché intervenire su questi boschi allora vengono le motivazioni quindi vengono definite i criteri con cui intervenire quindi gli impianti le modalità di diradamento e gli impianti di nuove specie la parte la parte di nuova è la allora la parte allora sono 12 ettari sono 12 ettari di terreni acquistati terreni agricoli acquistati soggetti a rinaturalizzazione con l'obiettivo nel lungo periodo di ottenere una macchina mediterranea a dominanza di lecce quindi dei boschi che rappresentano abitati di interesse comunitario 12 ettari allora ecco diciamo queste slide questa slide mette in evidenza i terreni diciamo acquistati rinaturalizzati e fornisce uno scenario diciamo quindi l'obiettivo dell'intervento lo scenario futuro questo è come si presentano questi terreni questo è il 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 bosco appino questa è la macchina mediterranea intorno e questo è come dovrà comparire dovrebbe comparire in un lungo termine diciamo l'habitat una boscaglia il monitoraggio degli interventi io vediamo un po' che stiamo quindi il piano di monitoraggio è del del progetto che riguarda diciamo e quindi del del progetto è una cosa importante è una cosa importante che deve essere previsto dal progetto e quando parliamo di piano di monitoraggio parliamo di piano di monitoraggio del progetto che riguarda sia l'individuazione di indicatori di tipo gestionale ok quindi indicatori diciamo che danno un'indicazione sul l'andamento l'andamento su come procede l'aspetto gestionale del progetto sia indicatori strettamente ecologici e quindi è un monitoraggio se vogliamo in qualche maniera ibrido ok quindi qua c'è un'indicazione di come devono essere gli indicatori previsti dal piano di monitoraggio nel progetto il piano di monitoraggio non è definito nel progetto il piano di monitoraggio è predisposto il piano di monitoraggio quindi è un intervento qualcosa che diciamo si progetta una volta che il progetto LIFE è partito tuttavia l'intervento che è l'E no l'EF l'intervento dà indicazioni su come il piano di monitoraggio deve essere strutturato e quindi dà un'indicazione su come devono essere gli indicatori devono essere misurabili devono essere comprensibili cioè nel senso che devono significare qualcosa e non devono essere ridondanti indicatori che descrivono la stessa cosa lo stesso fenomeno possono quindi ridondanti possono tranquillamente essere eliminati e devono avere almeno un valore di riferimento delle buone prassi di ogni programma di monitoraggio e questo è il piano di monitoraggio che è stato individuato dopo l'attuazione del del progetto con l'attuazione del progetto quindi abbiamo tutta una serie di indicatori che sono legati alle singole azioni previste dal progetto e implementato nel progetto con i parametri di misurazione e le modalità di misurazione come vedete non sono soltanto indicatori di tipo ecologico che ne so superficie interessate agli interventi piantine attecchite ma ci sono anche indicatori di tipo gestionale numero di convegni numero di pubblicazioni che sono state pubblicate e quelle pubblicazioni che sono lì sono alcune delle pubblicazioni prodotte proprio dal progetto Life e previste da progetto stesso Allora quindi per chiudere la presentazione di questo esempio questo progetto Abicost un'ultima cosa volevo dirvi che all'interno del progetto è prevista un'azione specifica che è quella cosiddetta post-life siccome il life non deve essere così come richiesto ovviamente dall'Unione Europea non deve essere diciamo un progetto isolato in qualche maniera deve dare una continuità nella gestione di una porzione di territorio di habitat e di specie e deve dare continuità quindi è opportuno soffermarsi oltre che sui tanti aspetti legati strettamente agli interventi diciamo così come abbiamo visto anche di dare una progettualità futura e questa progettualità futura si introduce all'interno del progetto life attraverso le azioni post-life quali sono queste azioni post-life che sono attualmente rappresentano una parte importante della gestione del SIC e della riserva e della riserva di Torreguaceto perché dal progetto life scaturisce con la chiusura del progetto life è stato avviato il piano di monitoraggio della riserva quindi in qualche maniera il piano di monitoraggio ecologico attualmente diciamo viene portato avanti dalla riserva in qualche maniera è l'eredità di quello che è stato il progetto life e in qualche maniera è stato preventivato dal progetto life certo oggi è completamente scollegato dal punto di vista dei finanziamenti quindi ormai il finanziamento life si è chiuso a quel punto però c'è stato realmente diciamo un prosieguo dal punto di vista gestionale dell'ente di gestore partendo dal progetto life adesso chiudiamo questo argomento a b cost e concentriamoci così su alcuni aspetti più di dettaglio che in qualche maniera ci aiutano poi a chiudere a concludere diciamo le tante cose che ci siamo detti più o meno disordinatamente questa sera allora innanzitutto gli interventi quando noi parliamo di interventi dal punto di vista ecologico parliamo grossomodo di due tipi di interventi differenti sono interventi di tipo conservativo o interventi di tipo di ripristino ecologico c'è una differenza tra i due gli interventi conservativi partono dallo stato di fatto cioè dall'attuale stato di conservazione per noi è un significato ben preciso l'attuale stato di conservazione hanno come obiettivo quello di garantire la conservazione quello stato di conservazione così com'è ok quindi sono interventi di conservazione tra quelli che abbiamo tra quelli introdotti all'interno del life quali sono gli interventi di conservazione gli interventi di conservazione per esempio sono quello legato alla riduzione della pressione antropica sul sistema di dune quindi la limitazione all'accesso da parte delle persone l'eliminazione di specie in qualche maniera l'eliminazione di specie esotiche è più un intervento di ripristino ecologico insomma appartengono alla categoria del prego il mantenimento del pascolamento sì anche se abbiamo visto il pascolamento in realtà abbiamo parlato dal punto di vista generale poi non è stato introdotto all'interno del life quindi interventi conservativi gli interventi conservativi hanno l'obiettivo di conservare lo stato di conservazione di stato di conservazione lo stato di conservazione l'attuale stato di conservazione gli interventi di ripristino ecologico invece hanno un significato diverso significa significa operare delle trasformazioni questo è il termine operare delle trasformazioni ovviamente con l'obiettivo di migliorare di migliorare lo stato di salute del sistema che andiamo che andiamo a trasformare operare una trasformazione e molti degli interventi che abbiamo visto prima cioè interventi di piantumazione di piantumazione quindi con l'obiettivo di aumentare di aumentare la copertura della lecceta e quindi anche di acquisti di terreni gli interventi di ripascimento delle dune costiere di eliminazione delle specie sotiche molti di questi interventi sono interventi di ripristino ambientale cioè in qualche maniera altero l'attuale stato di conservazione degli ecosistemi ovviamente con l'obiettivo di aumentarne la naturalità la biodiversità gli interventi di ripristino ecologico in generale possono essere diciamo inquadrati in quattro tipologie differenti abbiamo gli interventi di aree interessate da ecosistemi naturali che sono stati completamente distrutti cioè ci sono dei casi per esempio delle cave per esempio in cui gli originari ecosistemi presenti lì sul posto sono stati completamente distrutti e non ci sono oppure molto difficile prevedere il ripristino degli stessi ecosistemi presenti cioè gli ambienti hanno subito una tale alterazione nel tempo e ormai si è persa la configurazione degli ecosistemi originali e hanno subito questi ambienti una tale devastazione che è impensabile un ritorno a quella situazione interventi di questo tipo quindi richiedono una 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 elaborazione diciamo una una forte attività creativa se vogliamo in quanto vengono a mancare quelli che sono i punti di riferimento quelli che sono per noi i criteri quelli che sono i punti di riferimento non abbiamo più il criterio di ricostituiamo quell'habitat quale habitat andiamo a ricostituire è impossibile ricostituire quell'habitat quindi possiamo pensare di rinaturalizzare anche pensando a qualcosa di completamente diverso lo stagno in una cava per esempio lì dove c'era macchia mediterranea noi possiamo pensare a un certo punto di introdurre introdurre un'area umida per esempio poiché macchia mediterranea parlando un po' per assurdo macchia mediterranea non può più ritornare in quell'ambiente così come una volta oppure in un ambiente particolarmente inquinato allora l'introduzione di un ambiente è completamente nuovo possiamo cioè arriviamo quindi il ripristino di ecosistemi degradati vuol dire per esempio ecosistemi in cui la frequenza di specie esotiche appare come un rischio e quindi appare ecosistemi degradati perché per l'introduzione delle specie esotiche oppure per il disturbo per il carpestio ovviamente ci sono tante forme di degrado in questo caso diciamo ci abbiamo il riferimento il riferimento è quello di la situazione precedente che può essere ripristinata un intervento generico di ripristino e mantenimento della biodiversità è un'altra categoria che è quello di interventi esplicitamente condotti per migliorare servizi ecosistemi ecco il punto diciamo il significato di queste slide è sostanzialmente per discriminare diciamo le due categorie di che abbiamo visto in precedenza di interventi di ripristino ecologico secondo Higgs un buon intervento di ripristino ecologico si deve basare su alcuni punti chiave si deve basare su quella che è l'integrità ecologica del sistema cioè un impianto forestale utilizzando delle specie all'octone non è un intervento di ripristino ecologico che rispetta questa integrità ecologica perché il sistema che viene creato non è un sistema integro dal punto di vista ecologico leggo un sistema ripristinato dovrebbe funzionare secondo questo punto chiave funzionare funzionare mantenendo la biodiversità e altre proprietà ecologiche un bosco di eucalipti nelle nostre zone diciamo difetta esattamente di questa integrità ecologica malamente si adatta in un contesto naturale ma la mente tende ad accogliere ad ospitare specie interessanti una ricca biodiversità un intervento un buon intervento di ripristino ecologico dovrebbe adeguarsi a quella che è la fedeltà storica ecco la ragione per cui andiamo a studiare storicamente l'evoluzione di un sistema perché dobbiamo andare a individuare quello che se è possibile ovviamente studiare questa cosa andare a individuare quello che era l'habitat il sistema ambientale che era presente in quel luogo disturbato e quindi intervenire con l'obiettivo di ripristinare di ripristinare quell'ambiente quindi la fedeltà storica è un concetto importante e poi quello che genericamente si può chiamare wild design cioè l'intervento deve essere tale che deve funzionare il sistema deve funzionare quanto più possibile in maniera spontanea ok e un sistema silviculturale con un impianto boschivo un impianto boschivo con specie esotiche spesso e volentieri questo aspetto della wild design manca di questo aspetto della wild design cioè non è un sistema autopoietico in grado di di rigenerarsi di propagarsi spontaneamente quindi quindi gli interventi e poi Higgs si sofferma su un aspetto sempre parlando di interventi di ripristino ecologico si sofferma su questo aspetto il ripristino ecologico non deve puntare soltanto al ripristino dei sistemi ma dovrebbe avere come oggetto quello di una cosa importante il ripristino delle relazioni tra uomo e ambiente e noi diciamo nella nostra chiacchierata più o meno organizzata o disorganizzata che vogliamo ne abbiamo parlato tanti di questi aspetti tanti habitat di interesse comunitario tanti habitat priorità diversi habitat prioritari sono degli habitat seminaturali cioè sono degli habitat che si presentano oggi come risultato di una coevoluzione dell'uomo con l'ambiente mediterraneo dell'uomo pastore dell'uomo allevatore che per millenni ha condotto queste attività nelle nostre zone quindi un un corretto intervento di di ripristino ecologico che punta verso questo particolare tipo di sistemi di habitat seminaturali non deve avere soltanto l'obiettivo di di ripristinare le funzioni delle strutture di quegli habitat ma anche di ripristinare per quanto è possibile quelle condizioni per garantire la copresenza dell'uomo responsabile di quelle strutture naturali e questa è una cosa importante diciamo sicuramente dal punto di vista scientifico ma anche dal punto di vista progettuale tra gli obiettivi 20-20 di cui abbiamo parlato prima dell'Unione Europea compare uno di quegli obiettivi non so se l'abbiamo passato in rassegna compare uno di quegli obiettivi dei sei obiettivi sono soltanto sei uno di quegli obiettivi dice l'Unione Europea deve introdurre cioè occorre introdurre nell'Unione Europea delle modalità di conduzione delle attività silviculturali e delle attività agricole che siano compatibili e che favoriscono la biodiversità a scala a livello dell'Unione Europea e questo che cosa vuol dire? Entra questo discorso che noi stiamo affrontando diciamo va entra proprio nel cuore di questo di questo obiettivo dell'Unione Europea la copresenza dell'uomo la copresenza dell'uomo che garantisce la biodiversità tanto è vero che possiamo a un certo punto nel quadro delle strategie dell'Unione Europea nel quadro che si attua attraverso la progettazione Life Nature e Biodiversità in questo quadro possiamo e dobbiamo siamo invitati dall'Unione Europea stessa a vedere l'uomo come un elemento dell'ecosistema a questo punto allora un fattore ricorrente all'interno dei progetti Life è questo cioè l'acquisto di proprietà privata è come se ci sia una sorta di arrendevolezza da parte degli enti pubblici delle amministrazioni è una arrendevolezza nella possibilità di coinvolgere il privato l'iniziativa del privato nella gestione dell'ambiente eppure se ci facciamo caso quindi una arrendevolezza perché? perché se alla fine ci si riduce da virgolette ci si riduce ad acquistare i terreni cioè a portare i terreni in proprietà pubblica vuol dire che si sta rinunciando diciamo ad un'altra strategia cioè quella di trovare un compromesso col proprietario terriero no? eppure andiamo un po' a contraddire quello che sono le indicazioni dell'Unione Europea quelle che sono le strategie diciamo che l'Unione Europea ci dà cioè che le strategie che l'Unione Europea persegue cioè quello di collaborazione tra l'altro anche l'amministrazione pubblica diciamo è attraverso tanti strumenti di parte attraverso tanti strumenti diciamo invitata a collaborare quanto più possibile con i privati tra l'altro e questa è un'altra questione che la pongo in termini diciamo critici in termini di occasione di riflessione un po' per tutti no? tra l'altro i SIC non sono stati individuati con l'obiettivo di privatizzare privatizzare tutto il SIC cioè non può essere quello un obiettivo perseguibile no? di ridurre tutto il SIC a proprietà pubblica cioè i SIC sono stati individuati indipendentemente dal fatto se il bene ambientale si trovi o non si trovi su proprietà pubblica anzi ecco quindi la questione è i LIFE prevedono la possibilità i progetti LIFE prevedono la possibilità poi c'è proprio la categoria B prevedono la possibilità di acquisire o prendere a noleggio diritti o terreni all'interno del progetto e quello viene tranquillamente finanziato viene tranquillamente finanziato però secondo me lo pongo in maniera critica ripeto secondo me c'è una sorta di arrendevolezza da parte dei progettisti a non voler per niente esplorare la possibilità di relazionarsi con i proprietari col privato ok e invece è quella l'azione che l'Unione Europea ci invita ad avere è uno degli orientamenti che l'Unione Europea ci dà non so se sono chiaro ovviamente questi sono dei principi guida effettivamente noi possiamo anche dire per dire mettere un po' di dibattito possiamo anche dire che molte aree protette si sono potute istituire nel momento in cui sono cessati i forti interessi su queste aree che poi sono state destinate alla conservazione della natura per cui noi ci troviamo in moltissimi casi in cui effettivamente e l'ha raccontato anche il dottore in cui l'attività non viene più esercitata su quella proprietà perché il diciamo il conduttore agricolo è morto e semmai il figlio è andato a lavorare in città fa l'architetto e quel terreno è abbandonato in quel caso è chiaro che la riserva è interessata ad acquisire il terreno che è rimasto comunque là inutilizzato sebbene ancora una proprietà privata e semmai decide di comprare delle pecore per far fare quel pascolo che non si esercita più a causa della morte del pastore che non è stato sostituito dal figlio quindi questo è un caso l'altro caso invece che coincide con questo principio guida è quello che abbiamo affrontato nel nostro gruppo di lavoro quando abbiamo deciso di coinvolgere gli agricoltori nella conversione della coltivazione degli olivi da diciamo una forma così tra virgolette industriale a una biologica cessando l'utilizzo dell'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti che andavano quindi l'abbiamo cercato di coinvolgere invece non acquistare gli oliveti ma abbiamo cercato di coinvolgere gli agricoltori nel cambio di modalità di produzione trovando anche con loro dei progetti che li favorissero come la promozione dei loro prodotti e così via era legato all'inquinamento della grotta con pesticidi e fertilizzanti un abuso della grotta sì il progetto teorico riguardava la protezione delle grotte in particolare legate ai pipistrelli allora ormai siamo alle battute finali quindi allora che cosa è successo nel 2013 nel 2013 è stato ovviamente emanato secondo programma un nuovo bando Life Natura Natura 2000 e sono state tante domande non saprei esattamente quante la giusto per darvi delle indicazioni anche per ricollegarmi diciamo quello che ci siamo detti all'inizio proprio all'inizio quattro ore fa ormai tra tutti i progetti presentati soltanto 12 in Italia hanno diciamo sono stati sono stati aggiudicati 12 per quanto riguarda la componente Natura 2000 e altri 35 per quanto riguarda la componente politica ambientale governance ma non ci riguarda diciamo relativamente a questo discorso l'importo complessivo leggo letteralmente l'importo complessivo dei cofinanziamenti comunitari assegnato ai progetti italiani è pari a 45,9 milioni di euro a fronte di un'allocazione nazionale indicativa di partenza per il 2013 pari a 24 milioni di euro l'investimento complessivo in Italia rappresentato dai progetti sarà di 96 milioni di euro tra tutti gli stati membri quelli che hanno maggiormente diciamo usufruito di questi fondi sono stati l'Italia e la Spagna nessuno dei progetti presentati nel 2013 ha interessato diciamo il territorio pugliese quindi ci ricondruciamo un po' partiamo un po' da quelle che sono state le nostre premesse le nostre premesse sono queste la progettazione life è una progettazione difficile è una progettazione difficile da tanti punti di vista e i risultati di successo per il progettista come vedete sono veramente molto esigui nel senso che tra tutti i progetti tra tutti i progetti soltanto 12 in questo senso quindi è una progettazione difficile è una progettazione difficile che richiede adesso non sto a ripetere quelle che sono le premesse ovviamente è ovvio che sia così è una buona diciamo una elevata eccellente qualità nella progettazione allora e allora volendo intraprendere diciamo dei nuovi progetti quindi ovviamente ci dobbiamo attrezzare diciamo di queste difficoltà ci dobbiamo attrezzare delle conoscenze adeguate dei sistemi ecologici delle conoscenze adeguate delle procedure di progettazione strettamente legate al life ci dobbiamo attrezzare di tecniche diciamo di progettazione generale quelle del problem solving della capacità di elaborare dei modelli concettuali e soprattutto ci dobbiamo appoggiare e dobbiamo far ricorso a tanta creatività la creatività ci serve perché come ho detto inizialmente tutti i bandi tutti i finanziamenti diciamo diretti quindi gestiti direttamente dall'Unione Europea richiedono diciamo un valore aggiunto e questo valore aggiunto tu lo vuoi tirare fuori soltanto attraverso la creatività attraverso una conoscenza approfondita dei sistemi ecologici di cui si sta di cui hai intenzione di parlare tuttavia ci sono alcune diciamo indicazioni che noi possiamo trarre da altri studi da altre per esempio anzi sicuramente molto importante è il monitoraggio degli habitat e delle specie della direttiva habitat della direttiva habitat che viene portato avanti dalle singole regioni e almeno in Italia su indicazioni date dall'Unione Europea quindi l'Unione Europea dice noi dobbiamo monitorare tutti i paesi membri sono obbligati non obbligo sono obbligati a monitorare lo stato di conservazione di habitat e specie della direttiva sul proprio territorio l'Italia poi diciamo in qualche modo subappalta tra virgolette questa competenza a livello regionale e nel 2013 è stato prodotto il rapporto di questo monitoraggio perché è utile per noi progettisti o per noi persone che stiamo cercando di capire come orientare la nostra attività professionale dal punto di vista della progettazione di Life perché sono indicazioni ci dà questo monitoraggio indicazioni su quelli che sono gli interessi anche diciamo in qualche maniera criteri di valutazione del progetto se vi pare cioè non ha senso conservare un habitat che sta in un ottimo stato di conservazione ovviamente concentrarsi su un habitat in precario in cattivo stato di conservazione in qualche maniera è più utile per diciamo per la conservazione in genere diciamo ma soldi meglio spesi ecco esattamente con questo con quest'ottica che è in europea guarda anche passa al vaglio anche i diversi progetti quindi creatività sì è assolutamente importante competenza scientifica e tecnica ovviamente fondamentale e anche diciamo un'attenzione verso questi queste indicazioni legate come questa legate al monitoraggio opportunità in Puglia io credo che il life negli anni sia diventato uno strumento diciamo è cambiato è cambiato negli anni oggi diciamo vincere un bando life probabilmente è più difficile che non in passato la Puglia in passato ha vinto diversi life alcuni di questi insomma li conosco molti hanno dei punti di debolezza ma è normale che ogni progetto abbia dei punti di debolezza però cioè noi pugliesi probabilmente ci dobbiamo attrezzare meglio ecco nel cercare di portare avanti diciamo gli interessi della conservazione della nostra regione anche perché le opportunità ce ne sono tante cioè se noi guardiamo il basandoci sulle priority area individuate proprio dalla programmazione life quindi gli SIC se noi guardiamo quindi i numeri di SIC presenti in Puglia e le zone di protezione speciale ZAPS presenti in Puglia in realtà diciamo abbiamo un vasto repertorio di SIC di ZAPS così come abbiamo anche un vasto repertorio di oggetti oggetto di conservazione di ripristino ecologico specie habitat della direttiva quindi le opportunità sono tante adesso un po' raccogliendo quella che è stata un po' anche la vostra richiesta parlaci un po' di quelle che possono essere le opportunità future per il life francamente voglio dire qualche elemento probabilmente ve l'ho dato dobbiamo partire dai dati del monitoraggio dobbiamo partire da lì dobbiamo non dobbiamo adeguarci adattarci dobbiamo accontentarci della nostra preparazione universitaria perché abbiamo visto il caso di biologi in realtà la preparazione universitaria soprattutto per quanto riguarda l'autoimprenditorialità in Italia è ritenuta non sono soltanto diciamo una mia idea ma anche l'idea di altri documentare in qualche maniera è ritenuta inadeguata tanto è vero che abbiamo la necessità di fare corsi per life esattamente una volta finito il corso universitario in Puglia quindi diciamo la vastità di oggetti e di situazioni è talmente tanta che non so presentarvi un quadro generale però sicuramente vi posso dire questo secondo me un ottimo punto di applicazione lo troviamo in tutti quegli habitat seminaturali in tutti quegli habitat seminaturali individuati che rientrano nelle categorie della direttiva l'habitat dei pascoli uno di questi il 6220 che ha una superficie notevole sul territorio sul territorio pugliese ed è un habitat fortemente minacciato il cui stato di conservazione si può ritenere tutt'altro che soddisfacente e a che cosa dipende questo sia da un dissodamento dei terreni anticamente gestiti a pascolo oggi non più un vero e proprio dissodamento l'abbiamo visto il caso di Torre Guaceto sia perché oggi portare avanti un'attività di allevamento estensivo un'attività di allevamento tradizionale è sicuramente è un'attività difficile da condurre per molte delle aziende che sono coinvolte in questo settore però l'habitat 6220 non è l'unico ce ne sono tanti altri abbiamo diverse formazioni arbustive sarcopotherium spinosum nella zona di peruda del capitano alcune formazioni a gariga che rientrano nelle categorie che rientrano nelle categorie della direttiva habitat e che in qualche maniera la loro conservazione dipende dall'utilizzo attraverso il pascolamento o attraverso le pratiche dell'incendio diciamo tradizionale anche habitat di zona umida ad esempio sono degli habitat realmente di tipo seminaturale molti la categoria dei giunchieti i giunchieti se più o meno abbiamo dimestichezza diciamo gli ambienti naturali sappiamo che cosa sono nelle zone umide quindi le formazioni a giunco pungente a giunco marittimo a piantaggine crassulenta a giunco nero cioè ci sono tante diciamo formazioni tante comunità biovegetali che tutte convercono verso la grande categoria dei giunchieti che sono un habitat di interesse comunitario che si chiama pascoli inondati mediterranei il termine pascolo ovviamente non sta lì casualmente lascia intendere che si tratta di attività di pascolamento che storicamente erano condotte all'interno della zona umida attraverso per esempio i bufali attraverso soprattutto un allevamento quindi legato ai bovini quindi anche quelli sono habitat seminaturali quindi habitat secondari individuati dalla direttiva habitat perché dico che questi sono degli habitat interessanti sono degli habitat interessanti perché più di ogni altra categoria di habitat forse in più in questi habitat convergono possono convergere anzi devono convergere gli interessi della conservazione con gli interessi della produzione con gli interessi economici del territorio ok per dirla a breve per conservare il Pasco 62-20 e anche gli altri di cui stiamo discutendo adesso occorre il pascolamento occorre il pascolamento vuol dire che questa è un'opportunità per il territorio di conservare e produrre è chiaro? Allora questo probabilmente è un campo diciamo su cui investire dal punto di vista creativo e dal punto di vista delle conoscenze dal punto di vista della progettazione life natural e biodiversità e abbiamo finito con alcune letture consigliate e non so se queste slide saranno poi in qualche maniera di dominio pubblico quindi alcune delle citazioni forse tutte sono riportate in questo elenco no alcune sono riportate in questo elenco e insomma che cosa altro dirvi domande? cosa che bisognava puntualizzare? riguardo l'acquisto dei terreni l'acquisto dei terreni come l'acquisto dei terreni è previsto tra l'altro è proprio una categoria della progettazione degli interventi è previsto però secondo me bisogna un po' bisogna anche pensare diciamo delle modalità di coinvolgimento dei proprietari cose nuove faccio un esempio per la gestione dei per l'utilizzo delle cannucce per l'utilizzo delle cannucce in alcuni casi per la costruzione quindi un nuovo e diverso uso di chiamiamolo tra virgoletta moderno per la costruzione delle palme quelle che vengono utilizzate dai balneatori sulle spiagge d'estate quindi come controllare il fragmiteto permettendo e favorendo la costituzione di un di un'azienda che utilizza queste cannucce non più per i tradizionali usi agricoli ma per fare qualcosa di nuovo per fare le palme per gli stabilimenti balneari ecco un esempio di coinvolgimento di ci sono altre domande io concluderei anche lo streaming ringrazio il dottor Beccarisi e i ragazzi presenti grazie a tutti 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 grazie a tutti